eccoci qui ragazzi sono goldrake e come vedete ragazzi oggi siamo qua in un nuovissimo video oggi siamo in un nuovo episodio di gare stante ragazzi questa gara è bellissima l'ho scaricata perché guardate cosa c'era nella miniatura l'ho visto adesso nel spawnare raga pikachu la faccia di pikachu è una cosa stupenda allora attenzione perché sta diventando inguidabile perché c'è un po d'acqua comunque andiamo raga guardate che figata il nostro pikachu comunque vai raga cerchiamo di andare ok perfetto ci hanno trollati vabbè noi respawniamo e ora cerchiamo di andare siamo in settima posizione raga vabbè adesso recuperiamo nessun problema attenzione a quelli che vanno dalla parte opposta vai salta ok ragazzi ci siamo ci siamo abbiamo la nostra Wagner vai vai raga cerchiamo di non trollarci vai così siamo in prima posizione non lo so raga non lo so qua ok forse seconda raga forse seconda perché è tutto un intreccio di checkpoint incredibile ok non trolliamoci qui tra di noi vai vai raga acceleriamo sempre bellissimo vedere pikachu lì raga è fatto benissimo veramente una cosa fighissima speriamo anche di entrare comunque vai raga prendiamo questi checkpoint stiamo andando comunque alla grande occhio occhio no ti pareva ti pareva che prendavamo il giocatore mannaggia lui vabbè comunque continuiamo raga dai che stiamo andando comunque bene siamo sempre in prima posizione quindi non male adesso cosa c'è warride si oh raga avete visto anche voi la pokeball no raga questa gara è una figata comunque vai facciamo questo salto ora ok entriamo nella bocca entriamo nella bocca di pikachu si raga entriamo nella bocca di pikachu comunque vai andiamo facciamo questa specie di warride strano direi ok qua c'è il secondo ci sono tutti gli altri che stanno arrivando occhio a non trollarci perfetto ok non ci siamo trollati qua stanno arrivando anche gli ultimi eccoli lì che stanno saltando questo è l'ultimo si adesso ok è finito il primo giro attenzione raga a non trollarci è finito il primo giro ora inizia il secondo quindi più o meno adesso sappiamo il tracciato e non dovremmo aver nessun tipo di problema quindi vai comunque vai raga cerchiamo di saltare abbiamo gli altri un po' dietro raga abbastanza lì vicini quindi noi cerchiamo di andare salta perfetto così vai raga che stiamo andando benissimo stiamo andando veramente veramente bene comunque raga spero che l'audio del gioco non sia troppo alto almeno lo spero raga adesso devo sperare e basta perché sei troppo alto non saprei cosa farci allora vai 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 raga vai oh che cavolo è esploso raga ma chi è esploso boh non so raga sinceramente non ne ho idea ok qua ci incrociamo adesso vediamo se riesco a farvi vedere la pokeball che è qui raga è qua sotto eccola lì no oh sì non lo so raga sì teoricamente sì però non l'ho vista bene raga non so come mai allora adesso saltiamo raga nella bocca di pikachu vai al massimo raga perfetto entriamo nella bocca e facciamo questa specie di warride molto bella come idea raga tra l'altro moddato perché questo pezzo è moddato comunque andiamo raga vai 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 facciamo gli ultimi pezzi qui dobbiamo saltare e poi concludiamo in prima posizione direi che questa gara è stata una bellissima gara ora andiamo subito alla seconda gara seconda gara ragazzi è questa non so credo ci sia una spirale penso raga comunque ecco guardate lì in alto sembra una spirale non vorrei dire ma da quello da quella costruzione raga sembrerebbe una bella spirale comunque continuiamo noi raga abbiamo ora la nostra x a 21 dietro si sono tutti trollati raga come come han fatto boh raga non lo so sta di fatto che noi li abbiamo distanziati di già siamo già belli in prima posizione distaccati comunque vai raga cerchiamo ora di fare tutto alla perfezione vediamo cosa ci riserva questa bella gara comunque vai raga vai cerchiamo di andare senza sbagliare ok perfetto raga ce l'abbiamo fatta abbiamo fatto questa curva ora cerchiamo di salire qua ci sono tutti i turbo vai 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 credo ci sia un salto abbastanza grosso infatti ecco qua questo salto ed ora cosa abbiamo raga una spirale gigantesca ok intanto mi stavo per trollare però questa è una spirale raga veramente grossissima e molto strana molto molto strana che però ce l'abbiamo fatta al primo colpo non so raga se ci fosse solo questo adesso dobbiamo entrare nel tubo comunque vai cerchiamo di accelerare al massimo senza mai mollare l'r2 o qui abbiamo un warride warride raga adesso rifacciamo vai 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 raga facciamo questa parte perfetta vai raga adesso dovrebbe essere finito vediamo i checkpoint 10 su 13 raga facciamo questa curva ok perfetto vai 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 raga ci siamo abbiamo quasi finito il primo giro è veramente corta come gara dura un minuto 40 adesso abbiamo il secondo attenzione raga non trolliamoci ok perfetto stiamo andando comunque molto 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 bene occhio madonna raga abbiamo sfiorato un pezzo una parte adesso possiamo continuare vai raga cerchiamo di prendere anche il turbo perfetto facciamo tutto più veloce che mai vai vai occhio al salto ma il secondo raga dov'è oddio 48 secondi dal secondo incredibile adesso noi dobbiamo fare il super salto speriamo di non trollarci qua la parte stante vai raga vai 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 ci siamo raga e ci siamo siamo praticamente quasi alla fine del secondo giro perché ci manca la spirale e i due warride piccolini vai qui con la nostra x a 21 comunque raga secondo me per fare queste gare l'x a 21 è perfetta veramente una cosa stupenda inoltre ho notato raga che nei tubi l'x a 21 va più veloce anche della wagner sarà per la trazione non so per cosa ma è più veloce anche della wagner comunque noi continuiamo andare che adesso ci abbiamo i due warride ok vai vai raga vai alla perfezione perfetto ora anche il secondo occhio a non trollarci questo l'abbiamo doppiato raga e credo di sì vediamo se riusciamo a doppiarlo entro la fine del giro vai raga vai 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 cerchiamo di fare questa curva ok passiamo di qui vai 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 che lo doppiamo vai che lo doppiamo raga ok abbiamo doppiato vale grandissimo vale comunque grandissimo e niente seconda gara conclusa molto molto bella direi di andare alla terza ed ultima gara terza ed ultima gara e dalla miniatura raga ho visto che c'erano delle rampe tipo skate park e anche questa raga è un'attività moddata comunque vedremo subito come sarà ho preso l'osiris raga per differenziare un po perché ho preso presente ogni gara un'auto diversa attenzione a qui non troll non trolliamoci perfetto come non detto come non detto ora siamo in ultima posizione vediamo di recuperare raga ma la vedo ormai dura recuperare dai levati 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 ok perfetto si è elevato siamo in non so quale posizione perché qui non si non sto capendo nulla ok niente ci siamo trollati niente raga erano tutti in mezzo io mi sono trollato adesso non so più in che posizione sono perché si sono praticamente schiantati tutti compreso me che non sono riuscito a andarmene in quel caos che si era creato comunque ora cerchiamo di fare tutto alla perfezione qui abbiamo davanti davide grandissimo anche davide comunque va anzi no forse non è lui o forse ok forse è daniel più che davide raga mi sembra ok vediamo se ok niente respawniamo respawniamo siamo in seconda seconda posizione per noi ragazzi mannaggia raga perché ci siamo trollati all'inizio c'era quello in mezzo e noi ovviamente cosa dobbiamo fare se non trollarci comunque c'è primo daniel quindi vediamo se si trollerà alla rampa o no allora noi cerchiamo intanto di fare tutto alla perfezione cerchiamo di non trollarci noi anche perché abbiamo gente assolutamente vicina e dietro di noi qua non avevo visto il checkpoint perfetto sono checkpoint raga un po troll non si vedono sempre nelle curve sono messi leggermente più avanti a posto per trollare ok adesso ho guardato la mappa e ci siamo perfetto quanti secondi 10 secondi addirittura 10 secondi dal primo raga speriamo di recuperare ma la vedo dura per la prima posizione raga la vedo veramente veramente dura ok vai tiriamo giù anche i paletti adesso ci siamo ci siamo ok perfetto abbiamo sorpassato questa parte vai 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 adesso acceleriamo al massimo qua ci da terza ma dovremmo essere in seconda credo sì non vorrei sbagliare eccolo lì lo superiamo in volo ok l'abbiamo superato vai vai raga vai 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 raga che siamo in prima posizione abbiamo il secondo dietro però abbiamo il secondo fottutamente dietro vai vai non trolliamoci raga non tro... oddio vedevo del fuoco non so se lo vedevate anche voi raga ma o come ho visto del fuoco forse erano delle scintille non lo so non lo so ok comunque vediamo andiamo raga andiamo senza sbagliare che il secondo è qui dietro io ho paura ho un sacco di paura raga vai 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 andiamo perfetto siamo arrivati in prima posizione anche in questa ultima gara ragazzi che dire abbiamo fatto tre vittorie su tre gare è stato un episodio veramente emozionante successo di tutto e niente ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un like iscrivetevi se non siete iscritti e noi ci vediamo al prossimo video bella ciao 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 ciao